Dai prossimi giorni le auto torneranno a parcheggiare nel periodo estivo ovviamente sulla strada parco e questa è una sconfitta per l'assessore Diodati che tanto si era battuto per evitare il ritorno dei mezzi sulla strada parco oppure no? C'è una grande amarezza perché in realtà io credo che anche correndo e con estrema difficoltà noi penso che potevamo trovare una soluzione diversa che avrebbe sicuramente nel medio periodo accontentato tutti i cittadini di Pescara io credo che la soluzione dei bus navetta sarebbe stata